Venerdì 15 gennaio 2021, buongiorno e ben ritrovati cari telespettatori, siete collegati con Fano TV, canale 17, sul digitale terrestre visibile in tutta la regione Marche e anche su internet, allora partiamo come sempre dal Santo, poi le previsioni, andiamo sul Santo, oggi è San Mauro, il sole sorgerà alle 7.42, tramonterà due minuti prima delle 5 del pomeriggio. Uno sguardo anche al tempo, come sempre il bollettino della protezione civile delle Marche di oggi prevede possibili deboli fenomeni nel settore interno meridionale della regione, nevosi al di sopra dei 400 metri per domani, vedete ancora la neve, possibilità di fenomeni deboli nella mattinata, soprattutto in montagna nel sud della regione, nevosi fino a quote basso collinari. Per domenica 17 gennaio ancora freddo, freddo con gelate diffuse in nottate, inizio mattinata non ci sono precipitazioni, lunedì invece nelle prime ore della giornata avremo un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Allora, oggi potremo intitolare la rassegna stampa, la rassegna della divisione dell'unità, vedremo perché le notizie ci portano a fare delle considerazioni, dei commenti su un fatto. Un fatto tra l'altro che è stato anticipato, se vogliamo, anche da Papa Francesco nell'intervista che ha rilasciato al Tg5 qualche sera fa. Il Papa richiamava tutti all'unità, unità, unità, unità. In questo momento è il momento della semina, la semina si fa tutti insieme e poi c'è il resto. Ma è il momento del noi e non dell'io. Come vedremo tra poco, in realtà, analizzando alcuni aspetti della nostra vita quotidiana, partendo dalla politica, con il governo appunto che è diviso, poi il lavoro, vedremo tra pochissimo le due categorie, la categoria più rappresentativa in questo momento che è quella dei lavoratori della ristorazione. Sono divisi, una parte terra aperto questa sera e una parte terra chiusa. E siamo divisi anche a letto, sotto le lenzuola. Lo vedremo tra poco. Cominciamo a leggere i giornali. Allora, il titolo, e qui partiamo subito dalla fotonotizia, Arancioni e Arrabbiati, Marche verso restrizioni più dure, Lira di Acquaroli. Ma l'apertura è per una notizia che pubblica in esclusiva il resto del Carlino. Prof fa sesso durante la lezione online, non chiude la telecamera, la telecamera scene hot di fronte a 20 studenti. Lui parla di debolezza e presenta le dimissioni. La presidentessa degli infermieri, invece, sto superando il Covid, dice Laura Biaggiotti, che era stata anche ricoverata in ospedale. Ora prego per la vita di mio padre. E poi io apro, aria di flop, noi in ginocchio, ma protestare così non va bene. Pochi dunque al momento sembrano essere i disobbedienti, perlomeno qui nella provincia pesarese. Vaccini nelle case di riposo, ci siamo quasi, guerra al virus. Il processo per violenza, il compagno l'ha picchiata, però lui accusa la madre. Il progetto, piazzale Cinelli a Pesaro cambierà volto, ma ci scappa la polemica. E poi lo sport, VL lassù il giusto premio per i tifosi, il vate a tutto campo. Repesia decisivo ha convinto il club a non accontentarsi. Parla Valerio Bianchini in questa intervista sul Carlino. Poi il calcio di Serie C, gentile, affano per ripartire dopo l'attentato, affoggia, gli incendiarono la porta di casa. Quell'episodio, dice lui, mi ha svuotato. Vediamo adesso invece il titolo d'apertura, è la foto notizia del Corriere Adriatico, edizione di Pesaro. La foto è per il giorno dei ribelli della cena. Qui vedete una rappresentanza di Ristoritalia, che è contro l'ipotesi di andare contro la legge, e quindi faranno altre iniziative. E ha presentato ieri, sono andati dal prefetto di Pesaro Urbino, la polla. Mentre avevamo i numeri, per restare gialli, sono parole del governatore Acquaroli. Polemico, soprattutto sul passaggio delle marche in arancione. Non c'è ancora l'ufficialità, ma l'aria sembra essere quella. La cela stretta con il nuovo DPCM, l'onda dei contagi ora si abbassa. In regione i positivi al tampone sono scesi dal 33 al 26%. Governo in bilico, con sei politici marchigiani. Spieghiamo questa crisi. Il dado dunque è tratto, ritirando le ministre Bellanova e Bonetti, e il sottosegretario Scalfarotto, il leader d'Italia Viva Teorenzi, ha aperto la crisi di governo in uno dei frangenti più delicati nella storia del Paese. PD e Movimento 5 Stelle fanno quadrato attorno al Premier, Giuseppe Conte, mentre il centrodestra spinge per il ribaltone. Sei voci marchigiane dunque per capire gli scenari. Scuole e palestre, noi siamo abbandonati e ora protestiamo. Sempre a Pesero, farmacisti e vaccino, adesioni in crescita, un dovere morale. Poi a Pesero, qui era nell'aria, lo avevamo analizzato nei giorni scorsi, sbotta Saltamartini, il sindaco diffonde indicazioni artefatte, dice l'assessore regionale al sindaco di Pesero Matteo Ricci. Hacker della DAD, della didattica a distanza, denunciati, minacce e oscenità a lezione, messaggio alla classe, vi ammazzerò tutti, due diciassettenni nei guai, identificati dai militari. E adesso invece, nelle pagine interne, andiamo a vedere qual è la situazione del Covid nelle Marche. L'onda si abbassa, l'onda dei contagi, però ci sono altri dieci morti. I positivi al tampone sono scesi negli ultimi giorni dal 33 al 26%, i ricoveri in calo, ma aumentano quelli in terapia intensiva. Dunque si vedrà nei prossimi giorni e se questo è un semplice reflusso, davvero l'onda dei contagi dal coronavirus ha iniziato ad abbassarsi. La percentuale dei positivi sul totale delle persone sottoposte per la prima volta al tampone molecolare nelle Marche è scesa dunque sensibilmente. Però anche ieri, purtroppo, il bollettino è stato pesantissimo, con dieci vittime. Il più giovane, un sessantenne di Senigallia, la più anziana invece una donna fanese di 91 anni. Andiamo sul resto del Carlino. Per le Marche, mazzata arancione, ira di acquaroli, gente esasperata. Il Presidente contro il Governo, ennesima modifica dei parametri. Oggi la decisione sul cambio di colore. Dunque, questa sera, ve lo dico già in anticipo, noi dopo il telegiornale andremo in onda, in diretta, con uno speciale dedicato, uno speciale della redazione, dedicato a questa iniziativa dei ristoratori. Io apro, avremo diversi collegamenti, cercheremo di capire un po' come andranno le cose, appunto, in questa giornata piuttosto importante. Quindi stasera vi diremo, oltre nel corso del telegiornale, di che colore saremo nelle prossime settimane. Ora, però, il dato interessante che va analizzato è questo. Quando il Governatore si arrabbia, si arrabbia soprattutto per l'ennesima modifica dei parametri. Quali sono questi parametri? Cerchiamo di capirlo. Allora, intanto, il parametro su cui si era fatto riferimento fino a questo momento, cioè l'indice R con T, che è l'indice di contagiosità, quindi quanto una persona può contagiare le altre. Nelle Marche il dato adesso è buono, nel senso buono, si fa per dire, però comunque siamo sempre sotto quell'uno famoso che non dobbiamo mai superare. Ieri a 0,97 contro 0,93 dei sette giorni precedenti. Però, nonostante questo, anche se di poco, rischiamo di finire in zona arancione. Perché? Perché c'è una valutazione di impatto alto e una classificazione di rischio complessivo alto che riguarda i posti letto, il tasso di occupazione del letto da parte dei malati di Covid nei reparti non critici che ha raggiunto il livello rosso del 51%. Quindi, traducendo in sostanza, non conta più soltanto l'indice di contagiosità, ma conta anche quanto soffrono i nostri ospedali, quanta gente c'è ricoverata negli ospedali e in questo senso le Marche non sono messe bene. Sempre sul Carlino, nel Carlino di Pesaro, zona arancione, l'ira di Acquaroli, assurdo cambiare ancora i parametri. Acquaroli Amaro titola il Corriere Adriatico, avevamo le carte per restare gialle, il governatore all'incontro Stato-Regioni. Allora, il Ministro Boccia ha ribadito che il timore più grosso per il Governo sono gli assembramenti, ovvero quelle persone che furbescamente, anche se vanno a prendere qualcosa al bar da asporto, poi si piazzano lì nei pressi, nella piazzetta, nella viuzza, si mettono lì, fanno assembramenti, tirano giù la mascherina e fanno come se niente fosse. Si ricavano una sorta di extra tempo e lì vanno e fanno come se il Covid non esistesse. Chiaramente quegli assembramenti lì, che non sono quelli della metropolitana, non sono quelli del ristorante, eccetera, quegli assembramenti sono pericolosissimi. Ecco perché il Ministro Boccia ha ribadito che questo è quello che il Governo teme. Però dall'altra parte c'è forte preoccupazione riguardo a questo divieto di asporto per i bar dopo le ore 18, perché questo è l'andazzo, cioè dopo le 18 non si potrà più fare l'asporto, quindi potete immaginare quali danni incalcolabili potrebbero subire i ristoratori o comunque anche i baristi, tutti quelli che vivacchiano con l'asporto dopo le 18. Ecco, questo è un problema serissimo, è un problema molto grave. Intanto, e qui arriviamo alla seconda divisione, la prima divisione abbiamo vista nel Governo, dove in questo momento chiaramente non ci voleva una sorta di crisi, in questo momento bisogna essere uniti, ma il Governo quindi è in questo momento diviso. Divisa anche la categoria dei ristoratori. La ribellione ora si fa in due, vedete? Ecco qua. C'è chi accenderà solo la luce, ristoratori divisi, due hashtag per un flash mob pacifico e una protesta illecita e provocatoria. Scatta il giorno delle saracinesche, alzate anche all'ora di cena, la lettera consegnata al Prefetto. Allora, qui Veronica Angeletti, sul Corriere Adriatico, questa mattina fa un po' la fotografia di questi due schieramenti. Da una parte abbiamo l'imprenditore Umberto Carriera, che è quel ristoratore proprietario di sei locali, Trafano e Pesaro, che sfidò le autorità già in precedenza, ve l'abbiamo documentato, gli sono stati chiusi i locali, ha pagato anche delle multe, e gode però, questo è il dato degli ultimi giorni, gode del sostegno dell'ex ministro dell'interno Matteo Salvini e di un parlamentare Vittorio Sgarbi, che tra l'altro stasera dovrebbe essere a cena, non so in quale ristorante, ma in uno dei suoi ristoranti. Mentre dall'altra parte c'è il gruppo Io Apro, dall'altra parte c'è il Ristor Italia, Io Apro in Sicurezza, l'ashtad Io Apro in Sicurezza, di qua c'è Io Apro, di là Io Apro in Sicurezza, ed è come referente Ristor Italia. L'associazione che si costituì, ricorderete, durante il lockdown, partì proprio da Fano, e acquistarono, conquistarono subito l'interesse di molte associazioni in varie regioni, Marche, Umbria, Abruzzo e Toscana. Ieri questa associazione è andata dal prefetto La Polla a dire noi non ci stiamo, ci separiamo, non abbiamo nulla a che fare con la provocazione di carriera e vogliamo fare le cose in modo legale. Quindi così abbiamo la fotografia di chi sono queste due fazioni che però fanno lo stesso mestiere. Forze dell'ordine in allerta, intanto, e questo è un altro dato interessante per oggi, perché ripeto, stasera dalle 18, quindi i ristoranti staranno, quelli che disobbedienti, tra virgolette, saranno aperti fino alle 22, perché dopo dalle 22 chiaramente c'è il coprifuoco e quindi non si può andare oltre. Carriera annuncia 22 adesioni, ma i conti non tornano. Comunque la Digos controllerà. Ora, la terza divisione, dov'è? L'abbiamo anticipato all'inizio della nostra rassegna stampa. La terza divisione è sotto le lenzuola, in camera da letto. Gli italiani, o comunque questa pandemia, ha ridotto notevolmente i rapporti. E non solo. Ha aumentato, c'è stato un aumento vertiginoso di matrimoni andati letteralmente a pezzi. Separazioni cresciute del 60%. E il confinamento ha messo in crisi anche le doppie vite. Insomma, qui c'è un minestrone. Più ansiolitici e meno pillole dell'amore. Il lockdown ci ha tolto anche la passione. Questo è il titolo che troverete, la notizia che troverete a pagina 13 del resto del Carlino, quindi nella pagina nazionale. Ma c'è una notizia che invece è finita, sì, nella pagina nazionale, ma che nasce in provincia di Piesurbino e che riguarda un professore, un professore stimatissimo che a un certo punto l'8 dicembre era in didattica, a distanza, cioè stava facendo lezioni con i suoi studenti, circa una ventina, al computer. A un certo punto, dopo aver fatto le sue spiegazioni, il professore lancia un filmato, un filmato che era destinato ovviamente ai corsisti, agli studenti che stavano frequentando questo corso. Nel frattempo cosa succede? Suona la porta, il din-don, arriva una persona che non vedeva da tempo, evidentemente una persona con la quale questo professore ha un rapporto e l'uomo e la carne chiaramente in quel momento si sono indebolite e quindi hanno fatto l'amore. Il problema qual è? Nulla di male. Il problema è che la telecamera di questo computer è rimasta accesa e quindi gli studenti al posto di vedere il filmato hanno visto il professore con questa persona fare effusioni e insomma hanno visto a fare l'amore. Ora andiamo sul giornale e cerchiamo di leggere, capire soltanto dal titolo e poco più quello che è successo. Tradito dalla telecamera, prof a luci rosse, il direttore, il direttore della scuola, fatto grave, si è dimesso. Accademia di Urbino lancia un filmato per ragazzi intanto si lascia andare con una persona senza spegnere la webcam. Si tratta di una persona stimata e apprezzata ma l'episodio si commenta da sé. Lui cosa dice al telefono con Maurizio Gennari, il giornalista del resto del Carlino? Lui dice e ammette io ho ceduto, mi scuso con gli studenti e con la scuola. Le parole del docente non mi era mai successo, ovviamente tutto pensavo tranne che potesse essere visto in diretta. Il nostro è un rapporto stabile parlando di questa persona ed erano mesi che non ci vedevamo per colpa della pandemia con la voce tremolante di chi capisce che gli sta crollando il mondo addosso dice una storia che è successa un mese fa. Dunque, lui dice anche convinto che i ragazzi fossero impegnati a seguire i filmati e la lezione ci siamo lasciati andare. Ho ceduto, vorrei essere giudicato sotto il profilo umano perché non sono un perverso e neanche un esibizionista e per questa ragione subito dopo l'episodio ho presentato la dimissione alla direzione dell'Istituto Urbinate, vorrei essere compreso e non giudicato per quanto accaduto nel corso di quella mattinata. Tra l'altro il direttore della scuola ha una grande stima di questo professore ed è dispiaciutissimo per il fatto che ovviamente d'ora in poi questo professore non potrà più insegnare. Parliamo, dice, di una persona, un critico, un curatore, protagonista del mondo delle arti che tutti conosciamo ed è un professore ottimo, anche molto seguito, vorrei dire amato, che è certamente rispettato dagli studenti e quel che è accaduto durante una sua lezione rappresenta un episodio molto grave nel contesto, sia nell'ambito e nel luogo in cui è successo, eccetera, eccetera. Ora, chiaramente questo è quello che è successo. parliamo di una persona davvero molto stimata. Il mio pensiero è che, come diceva Don Benzi, l'uomo non è il suo errore, quindi tutti noi sbagliamo. E allora, volendo così stimolare anche il vostro pensiero come mi piace fare al mattino durante questo primo incontro, così, cercando anche di smuovere un po' il nostro pensiero. E se quella telecamera fosse puntata al posto del divano, fosse stata puntata accidentalmente sulla porta del bagno accesa e il professore mentre era sulla tazza del water a fare il suo bisognino. Ecco, se fosse stata questa avremmo detto la stessa cosa? Una considerazione. Eppure, tra le due cose qual è la più disgustosa? Ecco, inoltre parliamo, ripeto, di una persona rispettata, una persona colta, una persona brava, una persona amata, stimata e quant'altro. Ora, non mi sembra davvero il caso di andare adesso. Certo, andava fatto, ci sono le dimissioni, chiamiamole pit stop in questo momento, usando un termine magari che si usa nel mondo delle auto. Poi si riparte e buonanotte. L'uomo non è il suo errore, ripeto, diceva Don Benzio, solo quattro comuni sono covid free. Questa è una riflessione chiaramente che abbiamo fatto insieme, poi ognuno la vede e la pensa come meglio crede. Solo quattro comuni covid free, dicevo, affanno record di contagi, Pesaro conta 565 positivi su 95.000 residenti, la città della fortuna 520 su 60, le oasi sono Serra Sant'Abbondio, Frontino, Monte Ciccardo e Isola del Piano. Questa è la fotografia di quella che è la regione. Farmaci e vaccino, adesioni in crescita, un dovere morale, il consigliere astuti, Domenica Muraglia, potremmo completare l'operazione. Nella mia farmacia siamo in 5, tutti abbiamo aderito. Forti sono le motivazioni. Poi la beffa dei vaccini. Nelle RSA servono le scorte, stop all'iter. per l'assessore Saltamartini dice da Roma ci chiedono di conservare il 30% delle dosi già arrivate. Ad oggi profilassi per 606 anziani utilizzeremo in Moderna dove è strettamente necessario. Poi le palestre, le scuole di danza ci hanno abbandonati e adesso protestiamo noi. Domani si riuniscono una trentina di titolari di attività per organizzare la contestazione più attenzione mediatica e la riscossa partirà dal palcoscenico di una diretta. Ricci di fondo informazioni artefatte di 600.000 tamponi saranno utilizzati. L'assessore Saltamartini ricorda al sindaco che esistono altri comuni marchigiani oltre a quello di Pesaro. E poi c'è un lutto questo volto sicuramente in tanti lo ricorderete si tratta di Adriano Mei è morto a 71 anni è stato coordinatore dei comitati delle Marche e per molti anni primo responsabile portavoce del coordinamento dei comitati delle Valle del Metauro del Cesano del Candigliano. Si è spento per un male incurabile l'altra notte a Terni dove si era trasferito da un po' di tempo a casa di una delle sue due figlie un piccolo imprenditore in campo edile che ha passato un impegno politico sindacale negli ultimi vent'anni ed è stato protagonista di lotte a tutela del territorio tra l'altro ricordiamo tutti quanti la sua battaglia contro l'impianto a biomasse che lui chiamava sempre con un nome che è molto più forte inceneritore facevano la spola con la droga ma l'auto insospettisce l'arma siamo a Cartoceto in un controllo delle norme covid incappano 51enne e 29enne con 40 grammi di cocaina mentre a Sassonia di Fano a Sassonia dedicata la via al ternore Cecchetelli fondò il coro Mezio Agostini e si esibì anche alla scala di Milano mentre tutti i cittadini si prendano cura di Fano l'appello dell'assessore Brunori dopo la pulizia delle rampe e del sottopasso qui siamo nel sottopasso di via Roma vicino alla chiesa di San Cristoforo poi da Fano ascoltate il dramma del paese basta con i muri del populismo sull'orlo del baratro per la pandemia il sindaco s'appella al Parlamento urgente ora agire senza speculazioni ancora dai quotidiani sempre da Fano Pesaro mai così lontana due autobus per 14 chilometri ex infermiera protesta dalla nostra alla loro stazione delle Corriere devo cambiare due mezzi è una vergogna un'odissea che in poca distanza mentre anche qui la notizia del sottopasso che ora è stato pulito poi c'è chi vuole il secondo casello scende in campo la Lega Fano il secondo casello è quello di Fenile che trova spazio anche sul Corriere Adriatico casello di Fenile prioritario ora conferenza dei servizi la Lega pone l'urgenza della questione per il sistema della viabilità invece nell'entroterra un tabaccaio un'entroterra fanese un tabaccaio alla sbarra per peculato intascava i bolli della regione è il titolo di una rivendita la somma che avrebbe fatto sparire di oltre 2000 euro mentre dalla Valmetauro Fossombrone rotatoria di Portafano a rischio per la siepe alta l'osservatorio cittadino chiede al sindaco di tagliarla perché ostacola la visibilità per quanto riguarda Colli al Metauro domande solo online per fruire dei buoni spesa disponibili contributi per le imprese fino a un massimo di 1500 euro a Mondolfo no alle barriere antirumore la regione sostiene i sindaci Barbieri con Signorini ha incontrato Acquaroli il 28 assemblea con i comitati poi sempre dalle pagine interne Vallefoglia amore violento marito indagato botte minacce shock ti sgozzo l'uomo è già gravato dall'obbligo di allontanamento da casa ieri l'incidente provatorio la moglie dice solo litigi io lo amo mentre sulla pagina di Urbino screening in ospedale scontro cardiologia riapre la prossima settimana i direttori Magnoni e Cani hanno risposto ai sindacati con numeri e date contagi interni a grappolo sovrapposti a massicci casi dal pronto soccorso e difficoltà ricettive nella rete regionale poi da Senigallia caccia i furbetti della sosta decine di multe dalla zona del porto all'ex piano regolatore numerose le sanzioni con il malumore dei commercianti oggi le prove per il ponte 2 giugno finge un funerale truffatore incastrato un ragazzo voleva farsi ricaricare la carta prepagata con la scusa che si trovava all'estero ma è stato rintracciato poi il ponte che non si chiamerà più 2 giugno quello di Senigallia quello nuovo ma dedicato sarà dedicato agli angeli di Corinaldo giusto così non dobbiamo dimenticare il cambio del nome deciso dalla giunta accolto con favore dai familiari delle vittime appunto della discoteca lo sport vis scatenata oltre a Ferrari Dianie e Tassi squadra rinforzata con altri giocatori dopo di Sabatino e poi il Fano Fano via libera per Gentile ufficiale l'acquisto del centrocampista del Foggia Baldini invece saluta e passa alla cittadella riparto in Granata per dare tutto il mio contributo ad una società che mi ha voluto fortemente allora chiudiamo qui la nostra segna stampa grazie per averci seguito vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 23 con il telegiornale e poi come abbiamo già detto subito dopo il telegiornale in diretta l'appuntamento con l'approfondimento della redazione io apro questo è il titolo special report oppure reporter speciale ovvero vi racconteremo in diretta quello che succederà nei ristoranti che hanno deciso di tenere aperto questa sera nonostante il divieto poi avremo degli interventi avremo delle interviste ci sono un po' di cose interessanti per poter trascorrere circa tre quarti d'ora insieme per il momento è tutto a voi l'augurio di una buona giornata e buon proseguimento con i programmi di Fano TV di Fano TV di Fano TV Grazie a tutti.